Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao a tutti, sono Agostino e sono uno studente del terzo anno del corso di laurea di medicina e chirurgia. L'Insubria non è stata la mia prima scelta perché il test per medicina è a livello nazionale. Ma è stata la cosa migliore che mi potesse capitare perché l'Insubria è una realtà piena di opportunità. L'ambiente ristretto stimola la conoscenza sia con i compagni che con i professori che si sono sempre dimostrati disponibili al confronto e al chiarimento delle perplessità. Inoltre l'Insubria mette a disposizione una serie di attività che servono per aumentare la conoscenza per quelli che sono i nostri interessi personali. Io per esempio ho partecipato a un internato nel laboratorio di morfologia che mi ha permesso di applicare le conoscenze imparate in istologia e in anatomia in qualcosa di più concreto e conoscere il mondo della ricerca. Spero che anche per voi sia un'esperienza positiva come l'è stata per me.